Noi come Dell EMC e Dell Technologies siamo orgogliosi di aver partecipato per l'ottava volta consecutiva e di contribuire e collaborare con la pubblica amministrazione alla costruzione di quella che sarà la futura piattaforma digitale del paese mettendo a disposizione strumenti dal punto di vista dello sviluppo software, dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica e dal punto di vista della messa in sicurezza di tutte queste infrastrutture di altissimo livello e che mantengono un'importante caratteristica di innovatività nel tempo. Noi come azienda abbiamo creato una importantissima business unit chiamata IQT, appunto da quoziente intelligenza quindi molto importante in cui cerchiamo di far arrivare, di consolidare tutte le intellectual properties e le tecnologie che stiamo sviluppando all'interno della famiglia di brand e Dell Technologies attraverso lo sfruttamento di queste nuove e moderne tecnologie di cui si è parlato molto come l'internet delle cose che abilita la possibilità di costruire applicazioni che possano predire e gestire meglio eventi piuttosto che servizi innovativi verso il cittadino. Attraverso questi strumenti e la collaborazione con le pubbliche amministrazioni crediamo e speriamo di riuscire a dare un contributo al miglioramento del Paese tutti insieme per costruire un'Italia migliore.